La prego Presidente di evitare questa cosa e piuttosto riammetterla alla seduta perché è veramente indecoroso che questa persona si sia dovuta andare, questo collega si sia dovuta allontanare perché voleva finire il suo intervento di cinque minuti. Chiedo appunto quindi di riammetterlo. Allora deputato, l'intervento non era pertinente e i toni erano veramente inaccettabili, va bene? Allora io ho preso questa decisione, peraltro le inammissibilità non si discutono, nel senso che sono inappellabili. Sì, io ho ascoltato le vostre ragioni, c'è un richiamo al regolamento, se è un richiamo al regolamento deve essere pertinente, non può essere un modo per riaprire la discussione sulla inammissibilità. E no, mi dispiace, mi dispiace.